Ehi, oggi ci sono tre livelli. Facci sapere in seguito quanti loghi hai indovinato. Uno. Per prima cosa te ne mostro due. Uno è reale e uno è falso. Devi capire qual è quello reale. Cominciamo con uno facile. Qual è il vero logo della LG? È questo qui. Due. Hai mai visto Animal Planet? Trova il logo. È quello a destra. Tre. Ora tocca a Visa. Abbastanza facile. Lo vedi? Ecco qui. Quattro. Samsung è famoso, quindi dovrebbe essere difficile, vero? È quello a sinistra. Cinque. FedEx. Qual è la tua scelta? Eccolo. Sei un altro facile. HP. O forse non è così facile. Vediamo. Questo. Sette. Nerf è un marchio di giocattoli. Riesci a indovinarlo? Ed è quello a sinistra. Otto. Sono ancora abbastanza facili. Sei al passo? Converse. Eccolo qui. Nove. Pensieri su Dell? Eccolo. 10. Non la mangi tu, ma se hai un animale domestico, allora forse la conosci. Il prossimo è Purina. Ecco qui. 11. E Oracle? Questo, ovviamente. 12. Senso Dine è un marchio di dentifrici. Lo conosci abbastanza da ricordarti il logo. Sì, è questo. 13. E Asus? Trova quello vero. Ed eccolo. 14. Trova il logo della Bose. E' quello a destra. 15. Ora è il momento di trovare il logo Lenovo corretto. E' lui. 16. Va bene, saliamo di livello. Cambieremo un po' le cose. Ti mostrerò un logo e dovrai capire di quale azienda si tratta. Iniziamo con qualcosa di semplice. A quale azienda appartiene? Huawei, ovviamente. 17. A chi appartiene questo logo? E' della DAV. Le saponette. 18. Qualche idea? E sono gli Universal Studios. 19. A chi appartiene? YoPlate, una marca di yogurt. Facile! 20. Questo lo conoscono tutti. 20. Riesci a riconoscerlo? UPS. Facilissimo. 21. E questo? Non è difficile. Nikon. Ma questo è certo. 22. Sai di chi è questo logo? È di Elmers. 23. Sembra vago, ma devi saperlo. E' Intel. Lo avevi riconosciuto? 24. Va bene. Che ne dici di questo? Tupperware. 25. Concentrati e dimmi cosa ne pensi. Ed è GoPro. Bravo. 26. Che ne dici? Played up. 27. Uno vecchio, ma buono. Riesci a capirlo? È Walkman. Non si vede più da tempo. 28. Pensi di conoscere questo logo? Ma certo. È Bosch. 29. E questo? È Whirlpool. 30. Un altro per te. Quali sono i tuoi pensieri? è Lancome. 31. Andiamo avanti. Cos'è? Difficile, ma lo dovresti sapere. Mattel, un produttore di giocattoli. 32. Pensi di conoscere questo logo? 32. Pensi di conoscere questo logo? 33. Un altro da riconoscere. Cosa ne pensi? Black & Decker. 34. E questo? È abbastanza semplice. Che ne dici? 35. Ed è Kodak. 35. E questo? Qualche idea? 35. E questo? Qualche idea? Holiday Inn. Una catena alberghiera. 36. Concentrati e potrai farcela. Non è troppo difficile. Vars Bees. 37. Che ne dici di questo? Cosa ne dici? Ed è Bissal. 38. Saliamo di livello. Un nuovo compito. Ti mostrerò solo parti di un logo e devi indovinare il marchio. Non preoccuparti, inizieremo con alcuni facili. Guarda, eccone uno. Lo conosci, anche se ancora sei incerto. E' un marchio molto noto. E' Apple, ovviamente. 39. Cosa pensi che sia questo? IBM. 40. Idee? Kleenex. 41. Qualche idea? Qui? Fujitsu. 42. Sì, non è difficile. L'hai capito? È Pampers. 43. Ecco un'altra piccola parte di un logo. Questa è una A. Ma cosa avviene dopo? A.T. 44. L'ultimo. Concentrati. Conosci questo marchio. È Paramount. Allora, qual è il tuo punteggio? Facci sapere nei commenti. Quindi, vediamoci dove? Tutto.